Tanta gente, come accade ormai da diversi anni, ha deciso di trascorrere la notte più romantica dell'anno ad Abriola per vivere tutte le sfumature dell'amore. Ed infatti proprio questo è il titolo che la Proloco ha scelto per la festa del suo patrono San Valentino. Tra le viuzze del borgo gli innamorati hanno potuto degustare prodotti tipici, assistere alle performance degli artisti di strada e riscaldarsi davanti ai falò che metaforicamente rappresentano la fiamma ardente dell'amore. Sta andando abbastanza bene perché stiamo vedendo una grande affluenza di gente, quindi c'è abbastanza gente e siamo davvero felici. E poi dopo questi due anni di stop riprendere a festeggiare il nostro patrono come si deve, come abbiamo sempre fatto, è davvero un'emozione unica. E quest'anno proprio per questo c'è stata una grande partecipazione e collaborazione da parte di noi giovani, quindi speriamo ci vengano a trovare tanti amici. Oltre ai classici falò che troviamo ogni anno e quindi con la degustazione di prodotti tipici di Abriola in ogni stand del quartiere, abbiamo pensato noi della Proloco di un percorso proprio per le coppie, quindi proprio per loro e in pratica dovranno tramite delle prove percorrere tutto il paese di Abriola, tutti i fuochi, in pratica attraverseranno appunto tutto il paese, tutti i falò e diciamo verranno quasi benedetti perché ogni falò rappresenta un santo di Abriola, quindi si passerà da San Sebastiano, poi San Gerardo, San Pietro e poi San Valentino qui in piazza, quindi verranno benedetti dei quattro santi.